Sicuramente è un momento importante, quindi una donazione molto gradita per la nostra piccola casa della salute, il punto prelievi, sarà molto utile perché sicuramente è fatto tutto più in sicurezza ed in modo più confortevole per gli utenti. Questo è lo scopo, ringrazio davvero il Calcit per la straordinaria opera che fanno sui territori per le donazioni ma proprio per tutto il loro operato. Insieme a tutta la rete del volontariato io credo che sono un elemento fondamentale per la nostra sanità nel territorio, quindi una collaborazione stretta fra le istituzioni è necessaria ed importante. Un grazie anche al nostro direttore di distretto che per dimostrare la vicinanza oggi è qui con noi e quindi davvero questo è uno dei momenti felici però che ci fanno comprendere sempre di più di quanto sia importante programmare, realizzare ma soprattutto dare risposte ai nostri cittadini. L'auspicio è quello di una sanità sempre più di prossimità e vicina ai cittadini. A che punto siamo in questa evoluzione, in questo processo da più parti auspicato? Allora questo è sicuramente quello in cui va la direzione anche a livello normativo del DM77, di quello che sta emergendo proprio nella sanità del territorio. La Toscana ma soprattutto la nostra Valdichiana rispetto al resto è veramente avanti, non dobbiamo anche semplicemente mettere a regime quello che c'è, organizzarlo anche in modo più efficace. Le nostre case della salute che già esistono in modo capillare sul territorio si stanno restaurando per diventare poi le case di comunità dove non solo cambia il nome, che è importantissimo perché non si parla più solo di salute ma di comunità, quindi quel punto di riferimento per tutti, ma lì cambieranno anche la tipologia di servizi e l'offerta sanitaria che verrà fatto. Stiamo lavorando per questo anche come zona distretto in una sinergia importante con la nostra ASL. Il volontariato si integra molto con i servizi. Al di là di quello che sta accadendo oggi, noi vediamo che dove c'è veramente volontariato c'è integrazione, perché l'obiettivo è quello di aiutare il cittadino per agevolare anche i stessi servizi. Questo ci permette di lavorare veramente in rete. Quando si riesce a fare questo e ci sono associazioni di volontariato, cioè sono tantissime che collaborano seriamente, riusciamo veramente a mettere insieme tutte quante le risorse e a rendere i servizi migliori, a fare un servizio migliore proprio per garantire una migliore accessibilità cittadino agli stessi servizi. In Val di Chiana ci sono diverse esperienze riguardo questo. Il Cacit in particolare, io sono anche responsabile direttore della zona distretto a Derezzo, il Cacit anche a Derezzo è molto attivo, quindi ci sono delle realtà veramente associative, veramente molto attive, dove poi c'è sensibilità anche da parte dei comuni, degli enti e chiaramente dell'azienda, perché chiaramente è contenta perché ci aiutano, alla fine ci aiutano a intervenire anche in situazioni molto particolari, dove forse saremo più lenti nel rispondere. Questo ci permette di lavorare meglio tutti. Sì, è stato un bellissimo progetto, richiesto direttamente dai punti prelievo di tutta la Val di Chiana, andavano rinnovate tutte le poltrone, è stato per noi un grosso impegno, perché capite ogni donazione significa prima trovare le risorse economiche, quindi organizzare tante manifestazioni, però ce l'abbiamo fatta anche perché la Val di Chiana, quando si tratta di volontariato e donazioni, è sempre splendida, quindi è molto predisposta verso le associazioni di volontariato. Noi abbiamo donato le poltrone in quattro punti prelievo e poi doneremo le carrozzine all'RSA di Castiglione a Serristori, perché lì le poltrone già le avevano, quindi per un costo complessivo all'incirca di 8-9 mila euro circa.